L'obiettivo delle case famiglie e così come di tutto il sistema dovrebbe essere quello di garantire nel più breve tempo possibile un'adozione e concedere quindi al minore di avere una famiglia. I motivi che ci hanno indotto a presentare questa proposta e quindi a chiedere l'istituzione dell'osservatorio sono proprio legati alle problematiche che ci hanno fatto presenti le case famiglie e le associazioni dei familiari. Qui con noi fra l'altro ringraziamo anche i nostri colleghi Nicola Molteni, Matteo Bragantini e Emanuele Prataviera e gli avvocati Giorgio Aldo Maccaroni e l'avvocato Maria Gabriella Zimpo che sono gli avvocati che ci hanno aiutato a scrivere questo progetto di legge. Io adesso lascio la parola a Nicola Molteni e vi ringrazio. Io aggiungo ben poco rispetto a quello che appena l'ho stato il collega Rondini in merito a questa proposta di legge, dico che il tema delle case famiglie e il tema dei minori e il tema del proposto di legge legata all'istituzione dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del funzionamento di queste case famiglie si inserisce in una valutazione più complessiva che la Lega da parecchio tempo fa su un tema, il tema della famiglia che è un tema a cui noi sta particolarmente a cuore e a cui si inseriscono altri due aspetti importanti. Il primo è il tema dell'affido condiviso e quindi il riferimento alla legge 54 del 2006 che è stata una vera e propria svolta storica, importantissima nel rapporto tra genitori e figli al momento della separazione con tutti i drammi e le conseguenze che una separazione tra i genitori può determinare sulla gestione, sull'istruzione e sul mantenimento dei figli stessi. Una legge storica che ha avuto poi nel corso degli anni dei problemi di applicabilità e di applicazione particolarmente evidenti ed è il motivo per cui è presente appunto il collega Prataviera, la Lega ha presentato una mozione a giugno che ovviamente nelle prossime settimane chiederemo di calendarizzare proprio ricostruendo tutto il percorso dell'applicazione e dell'introduzione della legge 154 del 2006 che diamo al governo la possibilità di poter intervenire proprio per renderla più applicabile e soprattutto rispondente a quelli che erano le finalità, gli scopi della legge stessa sull'affido condiviso. L'altro tema che ci sta particolarmente a cuore e che si ricollega inevitabilmente al tema della casa famiglia, al tema dell'affido condiviso che sta vedendo tra l'altro Regione Lombardia del Presidente Maroni in prima linea impegnato con grande attenzione il tema dei papà separati che è i padri separati che è inevitabilmente una delle, che configura il rischio di essere una delle nuove emergenti povertà tant'è che Regione Lombardia proprio per far fronte a questa necessità e a quello che sta realmente diventando come un dramma sociale importante ha stanziato, come ben sappiamo, ed è la prima Regione a farlo, circa un milione di euro attraverso un bando per dare la possibilità a circa 500 papà separati che rappresentano una soglia piccola ma significativa dell'impatto dell'intervento per poter dare un aiuto e un contributo a quella che è a tutti gli effetti una nuova povertà emergente. Quindi c'è da parte nostra con questa proposta di legge tale per cui ringrazio ovviamente gli avvocati che abbiamo incontrato e che ci hanno aiutato da un punto di vista tecnico a tradurla in proposta di legge dimostra la sensibilità che la lega su questo tema e che manifesteremo ulteriormente oltre che con il deposito di questa proposta di legge anche con i successivi atti tra cui con la calendarizzazione che chiederemo della mozione su una migliore applicabilità della legge 54 del 2006. Grazie. Vi ringrazio e ringrazio soprattutto gli onorevoli qui presenti, l'onorevole Giorgetti, l'onorevole Marco Rondini, Nicola Molteni e Matteo Bragantini, nonché l'avvocato Maria Gabriella Zimpo e tutti voi che siete intervenuti perché questo progetto dell'osservatorio ha una valenza veramente importante. Ce l'ha perché sappiamo qual è la situazione in materia di adozioni. La situazione è complicata, è complicata e difficile perché si dice che ci sia carenza di bambini che possono essere dati in adozione. In realtà non è questa la vera situazione perché i bambini a volte ci sono, c'è la disponibilità, però a seguito di procedure troppo farraginose e di situazioni che andrebbero cambiate, ovviamente questi bambini spesso e volentieri stazionano troppo a lungo in queste case famiglia. L'obiettivo primario, come sottolineava anche prima l'onorevole Rondini, qual è? L'obiettivo primario di questo strumento è proprio quello di consentire che i minori stiano il più breve tempo possibile dentro le case famiglia e quando ci sono i presupposti necessari vengano dati in adozioni a famiglie meritevoli di averli in adozione. Prima ancora di questo però vorrei fare un passo un pochino indietro in questo senso, cioè dire per prima cosa che prima di parlare di adozioni parliamo del sostegno necessario indispensabile che deve essere dato alle famiglie che si trovano in condizioni di bisogno e a cui a volte vengono tolti i bambini e vengono messi in stato di adozione. Il primo obiettivo che dobbiamo perseguire è quello di impedire che queste famiglie in stato di bisogno possano trovarsi a recidere un legame così importante che è quello con i propri figli. Per cui la prima cosa, come anche dice la legge del 2001, la 149, è quella di sostenere da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali di mettere in atto tutti gli strumenti per sostenere il nucleo familiare d'origine. Solo dove, ed ecco l'estrema razio delle adozioni, solo dove non c'è la possibilità o perché il minore è orfano o perché non solo i genitori, parlo anche dei parenti entro il quarto grado che devono essere interpellati e messi in gioco in questa situazione. Solo ecco, ove non ci siano queste figure di riferimento, ovvero nonostante si sia fatti tutti i tentativi, non c'è stata la possibilità di consentire al minore di rimanere nel nucleo familiare d'origine, allora ecco parliamo di adozioni e parlando di adozioni cerchiamo di migliorare questo concetto delle adozioni. Ecco perché mettiamo in campo l'osservatorio. L'osservatorio è uguale a strumento che ecco, nell'ipotesi fatta di bambini che devono essere dati in adozione, faccia sì che ci sia un controllo su queste case famiglia che nessuno esercita fino adesso, nessuno ha mai esercitato. un controllo che non significa soltanto controllo sanzionatorio come qualcuno potrebbe pensare, significa un controllo necessario per stabilire le priorità di intervento nei confronti di questi istituti per consentire poi di coordinare e fare da intermediario, ecco l'altra funzione dell'osservatorio, non è solo il controllo ma anche il coordinamento e l'intermediazione per conto di queste case famiglia. Case famiglia che ecco possono e devono ovviamente essere premiate quelle più meritevoli mentre auspichiamo la chiusura di quelle invece poco meritevoli ma quelle più meritevoli è chiaro c'è sempre l'esigenza che il minore anche se per un breve periodo di tempo, cosa che non auspichiamo, debba comunque sempre soggiornare all'interno di queste case famiglia. Allora è chiaro che dobbiamo consentire che le stesse, e ripeto le più meritevoli, possano continuare ad andare avanti ricevendo i finanziamenti necessari e facendosi ecco che vengano eliminati tutte le barriere che si frappongono a una situazione che si vuole tutelare il più possibile all'interno proprio di queste case famiglia. Quindi crediamo nell'istituzione di questo strumento, questo strumento che potrà migliorare le adozioni perché sarà uno strumento che adesso manca che consentirà appunto il controllo come detto già il coordinamento e l'intermediazione di queste case famiglia. Qualora ecco vi siano dei bambini che possono e devono essere dati in adozione è chiaro l'osservatorio farà sì e si darà da fare perché ciò avvenga nel minor tempo possibile perché è chiaro avere una famiglia per un bambino è una cosa più importante che trovarsi in una casa famiglia seppur con tutti i comfort necessari e con tutte le figure di riferimento che può avere. Poco fa ecco volevo dire aggiungere un'altra cosa, l'onorevole Nicola Molteni ha sottolineato un altro aspetto importante di cui abbiamo avuto modo di parlare succintamente ma che svilupperemo meglio. Il tema della famiglia più in generale, ecco ci battiamo proprio perché migliorino i diritti delle famiglie e dei minori a tutto tondo, il tema dell'affido condiviso. Questa è qualcosa, ecco io lo accenno, non è questa la sede per parlarne, ma che faremo insieme all'onorevole Molteni e agli altri onorevoli qui presenti per elaborare un testo che io sto cercando di preparare insieme anche ad altri magistrati oltre che avvocati e appunto che vedremo poi a 360 gradi anche con gli amici onorevoli per arrivare a un testo che migliori l'attuale legge dell'affido condiviso. Perché c'è da migliorarla questa legge? Ecco prima si sottolineava il ruolo dei padri, questo succede, faccio un breve accenno perché ovviamente qua parliamo dell'osservatorio, però mi sembra anche giusto fare un accenno su questo. L'affido condiviso è applicato male, è una sorta di vecchio affidamento esclusivo con diritto di visita, perché nel momento in cui nei tribunali, questa è la prassi, viene individuato il cosiddetto genitore collocatario in via principale e viene applicato un diritto di visita al padre, altro non è che un affido esclusivo camuffato che si vuole chiamare affido condiviso. Quindi siamo lontani dall'aver raggiunto lo spirito della norma che era quello della bigenitorialità perfetta. Ci sono dei passi da fare però non bisogna fare passi falsi, ecco perché io sto cercando prima di arrivare a un testo che poi sottoporrò all'onorevole Molteni e a voi tutti, di interpellare dei magistrati, degli altri avvocati per sentire quali sono le proposte in campo, per fare sì che proprio venga realizzato lo spirito della legge che è quello di arrivare a una bigenitorialità perfetta. Non mi dilungo però su questo perché la materia dell'affido condiviso sarà oggetto di altro però voglio sottolineare quanto sia importante questa proposta di legge che io mi auguro perché l'augurio che faccio sempre da tanto tempo sulle proposte di legge è che diventino legge. Abbiamo purtroppo dei meccanismi che a volte allungano i tempi di appropriazione delle leggi. Mi piacerebbe tanto che venissero snelliti ma questo è un altro obiettivo difficile ancora da realizzare. Però ecco sono convinto che con la forza propulsiva degli amici qui onorevoli della Lega, molto attenti al sociale, al tema della famiglia, riusciremo veramente a far sì che venga calendarizzata questa proposta di legge venga discussa nelle opportuni sedi referenti e deliberanti e diventi veramente una legge di cui c'è bisogno. Facendo così veramente cercheremo di fare un passo avanti nel migliorare le adozioni sempre con l'ottica principale con cui ci dobbiamo muovere, cioè guardare all'interesse dei bambini coinvolti. Dice la legge diritto del minore ad una famiglia, della legge 149. È vero, è un vero e proprio diritto che non si può negare a nessuno. Io vi ringrazio, ecco se ci sono domande poi sarò pronto a intervenire e a rispondere. Credo di dare, non so se la parola, ecco all'avvocato Maria Gabriella Zimpo che potrà anche lei, ecco che oltretutto fa parte della mia associazione dell'avvocatura italiana per i diritti delle famiglie ed è consulente da tantissimi anni dell'associazione Cuore che è una delle associazioni che a livello internazionale si occupano di adozioni. Buonasera a tutti, chiedo scusa per la voce ma sono riduce da una brutta influenza quindi potrei diventare anche un po' rauca, ma al di là di questo volevo ringraziare sentitamente gli onorivoli qui presenti per aver dedicato attenzione ad un argomento così importante, così sensibile perché al centro di questo mondo di cui stiamo parlando e in tutti gli ambiti ora citati c'è al centro il bambino, io lo chiamo bambino non minore, mi piace di più, sono molto attenta per essere un avvocato fanatico di questa situazione, cioè chiamare bambino minorenne non minore che ha un significato molto molto importante. Questo per dire che cosa? Che il diritto interessato dell'ottimo funzionamento delle case famiglie di cui noi ci stiamo occupando è il minore, è colui che viene ospitato in queste case famiglie e ha il diritto di essere trattato al meglio, abbiamo detto nel miglior e nel minor tempo possibile, perché? Perché questo bambino ha diritto ad avere una famiglia, mi ricollego a quello che diceva benissimo il collega Giorgio Maccaroni, il bambino ha diritto ad una famiglia, sia essa quella di origine, sia essa una nuova famiglia, una famiglia che potrà accoglierlo, che potrà amarlo. Io sono tra quegli avvocati che ovviamente dice sì, la famiglia di origine deve essere tenuta in considerazione prima di tutto, però in qualche modo sono tra quelle, mi assumo la responsabilità di quello che dico, che dice non la famiglia di origine a tutti i costi, perché la famiglia di origine a tutti i costi comporta un prezzo altissimo da pagare, questo prezzo lo paga il bambino. Allora dobbiamo considerare che l'attenzione va rivolta anche alle altre famiglie, alle famiglie dell'adozione, i cosiddetti genitori che non hanno diritto di adottare ma danno la disponibilità di accogliere un minore in adozione o, non l'abbiamo citato, in affido familiare. E' un altro ambito molto importante che andrebbe sollecitato e per il quale andrebbe formata una cultura, allora se ne parla sempre più spesso, ma io ritengo che non ci sia una cultura appropriata di questi ambiti. Per cui il bambino va in qualche modo protetto. Controllare le case famiglie, coordinare le case famiglie, che cosa significa? Significa fare in modo di mettere questi ambiti nella migliore condizione possibile per operare, per garantire che siano in qualche modo così in grado di dare quegli standard minimi professionali in termini di educazione, di assistenza di questi minori, psicologica e anche fisica il più delle volte. Perché questi bambini, immaginate l'orrore che provano quando vengono staccati dalle famiglie e inseriti in una casa famiglia, devono trovare il luogo più accogliente del mondo. Quindi per fare sì che ciò avvenga, dobbiamo mettere gli operatori in condizioni di poterlo fare. Vi cito un piccolo caso, ovviamente senza farci a un bambino che è nato due mesi fa ed è ancora in ospedale, nonostante ci sia un provvedimento del Tribunale che abbia disposto che questo bimbo insieme alla madre venga inserito in una casa famiglia. Ora non si trova una casa famiglia che sia nella condizione di poter ospitare entrambe. Il bambino rischia di essere ospedalizzato. E che cosa succede? Tutto questo si allungano i tempi. Allora, qual è il problema secondo il mio modestissimo parere? Qui non esiste secondo me un meccanismo che potrebbe essere appunto riferito e dato all'osservatorio di analisi e di comprensione di quelli che sono i meccanismi che prevedono intanto la possibilità di prevedere un numero di posti necessari e sufficienti per far fronte ai bisogni di una comunità che può essere quella di Roma, del Lazio o comunque poi dell'Italia. E l'osservatorio dovrebbe far questo. Dovrebbe cercare di fare quello che la legge già dice, di mettere in contatto tutti i soggetti che operano in questo settore e integrare le loro professionalità, le loro capacità operative in modo tale che non ci siano falle, che non ci siano defaianze, che non ci siano queste situazioni. Perché poi effettivamente le case famiglie tutte cercano di fare il meglio, al di là dell'aspetto economico che hanno già trattato gli altri e capiamo che in questo momento di crisi costituisce un aspetto importantissimo perché poi, voglio dire, se le risorse non ci sono è un grave danno. Però anche laddove le risorse vogliono essere messe in un secondo piano c'è un aspetto deletereo di una disorganizzazione di un sistema che purtroppo non ha un coordinatore, non c'è un soggetto che veglia, ora senza parlare di quegli ambiti, di quelle case famiglie in cui gli operatori non sono così altamente specializzati e qui si apre ovviamente un ambito di grave orrore, cioè di veramente di mancanza istituzionale. Per minimamente entrare nel discorso dell'affido condiviso, io sono molto legata a questa affido perché me ne sono occupata a suo tempo quando la legge fu modificata, quindi quando la legge 54 del 2006 poi è stata approvata e per quanto tutti abbiano detto, ah ma è stata fatta malamente, sono d'accordo, poteva essere fatta meglio, ma io mi ricordo di aver esultato tantissimo in quel momento perché poi l'esperienza mi ha dato ragione, ha aperto questo mondo giudiziario nel mondo dell'avvocatura ad una nuova cultura, quella di considerare che i bambini hanno diritto ad una madre e un padre e non a due genitori in percentuali diverse, ma questo non per fare il tifo per la mamma o per il papà, perché già pensare questo è errato senza creare sfavori a nessuno. Il bambino deve essere un soggetto che deve essere tutelato da queste diatribe e molte volte, perché lo cito adesso? Perché tanti di questi bambini a causa dell'elevata conflittualità tra questi genitori sono coloro che vengono ospitati dalle case famiglie, che loro malgrado vengono allontanati perché l'ostimazione di questi genitori che non hanno ancora capito l'importanza del diritto alla bigenitorialità, continuano a vessare i propri figli che poi vanno a finire anche loro ospiti, molte volte ovviamente anche ospiti graditi, nel senso che è lì che trovano la pace questi bambini, perché io sono rimasta una volta sconvolta da un caso in cui una bambina è entrata in casa famiglia e ha cominciato a cercare la sua stanza, le sue cose per poter trovare un momento di pace. Allora, questo è un altro motivo in più per poter assistere queste situazioni, ovviamente non si fa di tutta erba un fascio e per fortuna nomicamente parliamo di pochi casi, ma fosse anche uno, noi ce ne dovremmo occupare. Grazie. Per finire, allora il concetto è abbastanza chiaro su il perché abbiamo voluto fare questa legge e perché la Lega si interesserà su queste tematiche, come ha sempre fatto. Io collegandomi all'ultimo intervento, volevo sempre ricordare che è diritto appunto dei bambini avere un papà e una mamma e non è diritto di nessuno di essere genitori, questo perché succede a mio avviso anche delle strutture che è successo soprattutto in Gran Bretagna quando si è permesso, se date la possibilità a donne di 60-65 anni di poter partorire un figlio, di avere un figlio. E quello a mio avviso personale è più un egoismo che un volontà di poter tenere un bambino. Perché ho fatto il caso della Gran Bretagna? Perché mi è rimasto, sono rimasto scioccato dalla notizia che ho saputo ieri di quella mamma italiana che era turista in Gran Bretagna che siccome ha avuto un momento di crisi, perché probabilmente non stava prendendo le medicine perché per tutelare il suo figlio in grembo, che quel sistema abbia permesso che venisse sedata, venisse fatto un parto cesareo, senza di niente gli sia stato portato via il bambino e questa mamma adesso in Italia è da 15 mesi che non sa che fine ha fatto il suo bambino. Dunque non dobbiamo neanche arrivare agli eccessi, dobbiamo trovare delle soluzioni concrete e pratiche. L'osservatore potrebbe servire anche perché bisogna dire anche un po' di dati. Sì, i minori vengono allontanati in Italia per quasi il 40% per motivi economici delle famiglie. Dunque per motivi per cui le famiglie non hanno un reddito sufficiente, non hanno abitazione. È una cosa assurda. Delle famiglie che magari vogliono tantissimo bene i loro figli, li fanno crescere in maniera più degna e possibile, ma per mancanza di risorse economiche vengono allontanati i figli. Questa è un'aberrazione a mio avviso. Perché dovremmo semmai, come Stato, dare i soldi a queste famiglie. Perché dobbiamo tutelare il minore e non è allontanando per motivi economici. Se ci sono altri motivi e ci sono dei casi, 10%, violenze, per carità quello anzi è doveroso che si usano i bambini per accantonaggio, che certe volte vengono allontanati, altri no e anche lì non riesco a capire la logica di alcuni magistrati perché non si va a tutelare il bambino. Però allontanando solo per motivi economici mi sembra un'aberrazione. Dunque noi staremo molto attenti, questa è una prima proposta di legge. Io in Commissione Affari Costituzionali ho già sollevato durante l'audizione con il Ministro Chienge il problema delle adozioni internazionali perché mi sono venute notizie di troppe casistiche in cui non c'è stata trasparenza, che siano stati utilizzati i bambini come strumento e queste coppie che avevano voglia di adottare perché vogliono, che avevano tutti i requisiti, che sono stati trattati con violenza psicologica micidiale perché alla fine arrivasse un contributo maggiore o degli auguri in una busta e magari si risolvevano i problemi. Dunque anche lì bisognerebbe fare un grande controllo ma per la tutela dei bambini perché noi dobbiamo sempre ricordarci di difendere la parte più debole. In questo caso sono sempre i minori perché sono quelli che soffrono di più, soffrono perché essere allontanati, dicevo prima per motivi economici, a 3-4 anni, a dare una casa famiglia, dopo 3 anni magari vengono affidati o finalmente adottati. Sì, magari gli diamo un aiuto dal punto di vista economico senza togliere niente a queste grandissime persone che lavorano però gli manca la loro famiglia se era una famiglia sana che gli mancava solo un motivo economico. Dunque dobbiamo andare veramente a risolvere. È una problematica a mio avviso che non è mai stata attenzionata nel modo giusto e forse alla fine più del potere legislativo finora se ne è occupata solo la magistratura facendo anche delle sentenze un po' atipiche e un po' strane che non sempre a mio avviso potrebbero andare per il bene dei bambini. Cito quella di darlo a coppie di omosessuali o meno che è una tematica molto delicata, la bisogna vedere caso per caso cosa è successo, se era una situazione giusta vi dicendo. Però dovremmo fare, prendersi noi la responsabilità come legislatori di fare una norma chiara e trasparente e andare sempre nel bene dei nostri cittadini e in particolare dei nostri bambini. Bene, sono domande? No, se no ringrazio tutti quelli che sono... Ah, prego. Grazie. 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 Grazie.